Bentornati, bentornati a Siamo Noi. Il suo sguardo sul mondo, e diciamo così, anzi a dirlo è proprio lui, è tragicomico, ma in fondo conosce bene il gusto, anzi il sapore della felicità e scopriremo il perché. Benvenuto a Marco Bonini, grazie di essere con noi. Grazie a voi, grazie a voi. Oggi Marco è attore, sceneggiatore, produttore cinematografico e tante cose. Sì, anche troppe. Anche troppe, oggi appunto, perché i suoi inizi invece sono stati di tutt'altro verso. Abbiamo iniziato con la danza classica e moderna? Sì, è successo a 14 anni, durante un'autogestione a scuola, delle ragazze del quinto anno hanno organizzato un seminario di danza moderna. Io con un mio amico sono andato a vedere questo seminario per partecipare ed è successo che siamo stati, sono stato, perché in realtà sono stato assunto, diciamo. Scelto. Ho scelto, sono stato scelto e poi insomma mi è piaciuto molto ed è un percorso a cui sono molto grato. Ecco, quel percorso con l'insegnante la quale, come dire, disse a Marco Bonini una cosa al Marco giovane. Sì. Sì, perché diciamo il problema della carriera da ballerino è che o tu sei bravo quanto Bolle o Nureyev... E c'entra Bolle nella sua storia, tra poco lo scopriremo. C'entrerà in un altro motivo, sì è vero. E non era il caso mio. Oppure per fare la chorus line, cioè per fare il ballerino di fila, devi essere, il corpo di ballo deve essere tutto alto uguale ed è difficile che il corpo di ballo sia alto quanto me. Però quella stessa insegnante notò l'espressività del viso, no? Che poi molto c'entra con la carriera che hai intrapreso. Io poi ti do del lei, del tu, ma diamoci del tu. Fai come vuoi. Che hai intrapreso. Quindi a un certo punto che cosa succede? Succede che il nostro Marco si rompe una spalla e il sogno di diventare ballerino. Sapete tutto, sapete. Il sogno di diventare ballerino. Sì, si infrange e Viorica, che era la mia insegnante di classico, mi dice forse un segno, la tua carriera, mi dice questa frase, sei troppo alto per quanto poco bravo, e mi dice però tu hai delle buone doti di espressività, io ti consiglierei di cambiare lavoro sostanzialmente, cioè di lavorare sull'espressività. E quindi io l'ho presa in parola, siccome tendo a non prendere mai l'aspetto negativo di un commento, ma sempre quello positivo, ho detto ah, bella idea. E quindi ho cominciato a fare l'attore. Esatto. Il sogno realizzato poi c'è stato, perché dicevamo che c'entra bolle in questa storia. L'ultimo film, Smetto quando voglio, ad Onorem. Ad Onorem, è quello che credo ancora nelle sale, è ancora adesso, ed è appunto il terzo della saga di Smetto quando voglio, nella quale sono entrato nel secondo, in masterclass, e dove faccio un personaggio, uno dei professori di Smetto quando voglio, dove faccio un personaggio che si chiama Bolle, si chiama Giulio Bolle. E di Bolle ci sono diventato alla fine. La carriera di attore, nella famiglia non c'era questa tradizione, perché mamma era un vigile urbano, papà un impiegato statale, insomma il rapporto col mondo dello spettacolo in famiglia c'era poco. No, è iniziato, beh diciamo, mia madre ha sempre sognato di fare la ballerina, è un'artista diciamo amatoriale, nel senso che scrive, dipinge, suona, canta, fa tantissime cose, però diciamo tutto a livello amatoriale, e quindi qualcosa mi ha lasciato da qualche parte, io l'ho raccolta e ne ho fatto una professione. Ma pesa la precarietà di questo mestiere? Pensando a papà impiegato statale, mamma vigile urbano? A me non pesa perché questo era uno degli obiettivi principali dell'inizio della mia carriera, io non volevo nessuna sicurezza e non volevo fare l'impiegato statale, quindi l'ho fatto quasi caparbiamente, e la condizione di un artista è oltre la precarietà, nel senso noi viviamo, cioè il mio commercialista mi chiede come faccio a sopportare psicologicamente queste oscillazioni di reddito, che lui non capisce, dice ma com'è possibile che quest'anno così, quest'anno niente, è così, la nostra vita è questa. Funziona così? Sì, è una condizione in cui siamo, diciamo, esposti ai venti. E poi inizia, insomma, nonostante appunto in famiglia non ci fosse questa tradizione, ma abbiamo capito che il nostro Marco Bonini è tipo caparbio, iniziano le selezioni nelle varie scuole. Alla D'Amico non va bene, non va medio bene, quasi bene. Non va medio bene, però lì dove si arriva è il centro studi lì a Cinecittà. Il centro sperimentale di cinematografia. Il centro sperimentale di cinematografia è forse un segno del destino. Anche lì, è stato... Io i segni del destino, non so se ci sono già in nucio, perché la lettura della realtà non si sa mai se viene dalla realtà o se siamo noi che la proiettiamo, però, diciamo, sempre per lo stesso principio, per cui una notizia brutta può anche essere un'opportunità per una buona notizia, io, diciamo, ho recepito bene l'invito della Silvia De Mico a cambiare aria e ho preso un'altra strada, ho preso quella del centro sperimentale. E lì è andata la grande. E lì è andata bene. L'esordio del 1994, poi una serie infinita di fiction, io ne cito solo alcune, Le ragazze di Piazza di Spagna, Un posto al sole, Un medico in famiglia 10, Il paradiso delle signore, credo, 1 e 2, e lì arriva la notorietà, no? E come cambia la vita? Ma, diciamo, io, la mia vita non è mai cambiata, o cambia tutti i giorni, a secondo dei punti di vista. La notorietà mi è arrivata per la prima volta con le ragazze di Piazza di Spagna, nel lontano 97-98, ed ero pure forse quasi troppo giovane per quella cosa lì. Insomma, lì mi ha un po' sorpreso, mi ha colto di sorpresa. Però, fortunatamente, poi la vita ti porta a capire quello che devi capire, e quindi questo passaggio del paradiso delle signore mi fa sorridere, cioè, mi piace, sono contento che sia andato molto bene. Tra l'altro, è un personaggio a cui sono molto legato, nel senso che Corrado mi ha sempre fatto molta tenerezza. E' un personaggio che ho amato molto, come tipo, e quindi mi fa piacere che sia ritornata questa attenzione, grazie a quel personaggio. E il nostro Marco, però, come dire, nel frattempo studia anche, si laurea in filosofia. Sì. Alla Di Pietro, te la chiedo Alla Di Pietro, ma che ci azzecca la filosofia con il mestiere di attore? Ma in realtà ci azzecca molto più di quello che sembra, da fuori. La filosofia, per me, è una domanda, lo è, non solo per me. La carriera artistica è una continua richiesta di senso. L'arte, in generale, se non voglio diventare troppo complicato, perché è l'ora di pranzo, L'arte è una ricerca di forma, di senso della vita. E lo fa attraverso una storia, attraverso un quadro, attraverso una canzone, eccetera. E quindi per me era quasi uno sbocco naturale. La mia tesi è su il senso dell'esperienza di un attore. Nel senso, quando un attore fa un personaggio, si perde in quel personaggio, quel personaggio diventa lui. Che succede là dentro? E la mia tesi era che l'esperienza di interpretare un personaggio è un po' un'esperienza conoscitiva. Nel senso, è come leggere un libro, è come incontrare una persona. Quella persona ti arricchirà, tu arricchirai quella persona, ci sarà uno scambio. E quindi, vivere un personaggio o interpretare un personaggio è un'esperienza di vita. Non è più e nemmeno come un'esperienza, come andare in vacanza o incontrare una persona o innamorarsi. Tu chiamere se vuoi emozioni, direbbe qualcuno. Sì, uno più bravo di me. Uno più bravo di noi. Lo dicevo in apertura, definisci il tuo sguardo sul mondo tragicomico. Perché? Perché sono italiano, principalmente. E lo sguardo tragicomico sulla realtà è una nostra assoluta peculiarità, nel senso da sempre, ma dai latini, da Dante, scrivere la divina commedia, non scrivere la divina tragedia. Se pensi a tutti i nostri più grandi maestri adorati in tutto il mondo, dai maestri del cinema, dai maestri del teatro, Edoardo, letteratura, Dario Fo, sono tutti comici. I nostri Oscar sono tutti Oscar di comici. È una nostra caratteristica molto specifica che credo vada, sì, è naturale. La commedia dell'arte, Pulcinella, sono tutti personaggi tragicomici. Assolutamente sì. Quindi io non faccio altro che inserirmi in una tradizione. Il nostro Marco è anche un fine scrittore. I suoi primi giudici sono i figli Maya di 14 anni e Orlando di 11, al quale Marco fa leggere le sue cose e loro esprimono il loro parere. Dico questo perché il 13 novembre è uscito il libro Every Child is My Child, storie vere e magiche di piccola e grande felicità. Ecco cosa ci azzecca la felicità, lo dicevo all'inizio. Fa parte di un progetto della Ollus omonima del libro, cioè Every Child is My Child. Qui in questo libro che il nostro Marco custodisce gelosamente fra le sue mani sono 220 gli artisti impegnati contro la guerra in Siria. Come è nata questa idea e perché hai detto di sì? Allora, l'idea nasce da Anna Foglietta e nasce il 4 aprile dopo l'attacco chimico in Siria. Lei ha sentito l'esigenza di lanciare un grido e viene spiegato all'inizio del libro come è nata questo gruppo di reazione e 250 di noi più o meno in tempi abbastanza rapidi hanno aderito e hanno cominciato scrivendo una storia immagino, no? No, questo è il gruppo la storia poi c'è avuto cioè il libro ha avuto una storia particolare e questo gruppo si è unito e ha fatto un post un flash mob si chiamano tecnicamente abbiamo fatto tutti un video dicendo basta e è venuta questa giornata in cui praticamente Instagram e i social sono stati completamente occupati da questo nostro grido da lì la cosa si è strutturata piano piano perché all'inizio era uno spluà emotivo si è strutturata piano piano ed è nata anche il libro ed è nata l'idea del libro dove tu scrivi una storia dal titolo Il mio amico Felicità sì e quindi l'idea di Salani che è l'editore che si è messo a disposizione di questa operazione totalmente benefica è quella di scrivere appunto chi volesse partecipare di scrivere una storia di felicità legata alla felicità cioè essendo una cosa legata alla guerra dovevamo lavorare sull'opposto e io ho scritto un racconto diciamo un piccolo racconto morale una favoletta morale in cui racconto il tema della paura però che diventa appunto il suo opposto che diventa la felicità e questo libro va comprato questo libro va comprato perché intanto noi siamo una onlus che non ha struttura ufficiale ci siamo noi fisicamente che facciamo tutto il conto corrente è intestato da Anna Foglietta che fisicamente fa i bonifici diciamo abbiamo tagliato gli intermediari perché stiamo sostenendo la Plaster School che è un'associazione di insieme si può fare un'associazione piccola che ha un obiettivo preciso che è creare e sviluppare questa scuola che ormai è stata creata a 200 metri dal confine con la Siria dove ci sono i profughi dove ci sono i profughi dove continuano ad arrivare e dove noi siamo andati Andrea Bosca che è uno dei nostri diciamo di uno dei avricialdi è andato fisicamente ha fatto dei filmati e ha verificato che tutti i soldi che abbiamo mandato si sono trasformati in operazioni e questi filmati sono visibili sia sul nostro sito che è everychildismychile.it che sui social di everychildismychile sono abbastanza conosciuti e sono ovviamente anche nel libro la cosa divertente per cui posso invitare a comprare il libro che è stata un'idea di Salani che tutti questi racconti sono presentati introdotti da una mini biografia degli autori dove ci è stato chiesto di mettere appunto una foto da bambini e una 4-5 righe in cui ci presentavamo non come artisti cantanti attori ma come bambini quindi ognuno di noi si presenta e introduce il suo racconto attraverso la sua insomma i nostri amici telespettatori non hanno dubbi devono comprarlo questo libro è molto importante come devono attendere con ansia il primo romanzo del nostro Marco Bonini che uscirà a settembre in autunno adesso non diamo dati precise non diamo titoli o ancora è troppo presto è troppo presto è un romanzo che sto scrivendo che uscirà con Longanesi ha una storia molto personale e uscirà sicuramente in autunno tra settembre e ottobre tornerai qua a raccontarlo ecco torniamo e ne parliamo al momento giusto però adesso come a conclusione di tutte le interviste voglio sapere a chi va il tuo grazie e a chi il tuo scusa allora il grazie va sempre a quelli che ci trattano male nel senso il grazie porgere l'altra guancia non è tanto porgere l'altra guancia quanto è capire che cosa è successo in quell'evento negativo che possa diventare quello che dicevo prima che possa diventare un'opportunità per crescere e capire lo scusa va a tutti quelli a cui abbiamo fatto male e mi sembra giusto grazie Marco Bonini grazie di essere stato con noi mi raccomando appena esce Reset ho titolo provvisorio mi impegno a venire qua all'inizio dopo l'estate e ne parliamo diffusamente grazie ancora Marco Bonini adesso voltiamo pagina pubblicità e poi lo spazio religioso che oggi è dedicato alle preghiere scritte da santi e religiosi e oggi è la volta del Papa Buono di San Giovanni XXIII tra poco qui passiamo noi grazie a tutti Grazie.